Penso che questo è una delle più belle qualità di un attore, no? Conservare questa passione e questo coraggio di scelte non sempre facili. Grazie Monica. No, per dire la verità abbiamo fatto quasi otto film insieme. Non in pochi, scusa. In molto, nella verità. Però quello è il più importante, penso, il più forte, il più... Sì, il più importante. Le qualità di Monica sono tante. Penso che è un'attrice che... Non so se ci dì. No, no, io mi piace tanto Monica come attrice, dai. Grazie. 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 Grazie.